L'Egnano è riduce dalla sconfitta al vertice con Biella, mentre Agrigento dà la convincente vittoria casalinga con Rieti che ha rilanciato i siciliani in classifica. I soliti 2.000 del pala euro immobiliare gremiscono le tribune come successe nel marzo 2012, in occasione della Coppa Italia LNP che vide proprio Agrigento vittoriosa unico ricorso storico tra le due società. La gara inizia con la stoppata di Mosley che gasa al pubblico, anche se per il primo canestro si deve attendere quasi due minuti con il libero di Raivio e il semigancio di Mosley, 12 punti, 9 rimbalzi, 2 stoppate per il 3-0 Legnano. Berolter lotta bene a rimbalzo e con tenacia segna il primo canestro ospite, anche se le due squadre sono molto imprecise e con banali palle perse da entrambe le parti. Frasineti segna due tripli in fila, inframmezzati dal canestro di Berolter per il 9-4 del quinto minuto. Legnano arriva sull'11-4 quando Evangelisti si guadagna liberi dell'11-6, ma campi invertiti e Mosley, molto cercato dai compagni anche perché Berolter con due falli non può essere sempre efficace defensivamente, a depositare ancora canestro prima della bomba di Ideoa che lancia Legnano per la prima volta in doppia cifra di vantaggio sul 16-6. Evangelisti commette un fallo su Martini dopo un recupero e prende anche un tecnico per proteste, cosa che frutta i Knights un 2-3 dalla lunetta e un canestro da sotto di Navarini per il 22-8 punteggio dopo 10 minuti di gioco. Il secondo quarto lo riapre Bufford dalla lunetta, seguito da De Laurentiis che con un gioco da 3 punti riporta in scia Grigento sul 22-13. Il parziale siciliano rimane aperto con il gioco da 3 punti di Bufford che viene chiuso da Martini 9 punti con il jumper dopo il timeout di Mattia Ferrari. Bufford 12 punti è in deso e ogni pallone che tocca sono almeno 2 punti per il bianco-blu, ma Frassinetti ne mette 2 per il nuovo più 8 legnano. Bucci 13 punti segna da sotto, ma Mosley inchioda una schiacciata a rimbalzo offensivo che fa saltare tutti i suoi propri seggiolini, per una gara che procede piacevolmente nonostante qualche imprecisione di troppo. Bucci infila 3 liberi di fila, pareggiati la tripla di Frassinetti, 15 punti e 4 assist, con il quarto che si chiude con la tripla di De Laurentiis, quella di Raivio e il jump di Bufford per il 36-30 dell'intervallo. Dopo la pausa Frassinetti segna il primo possesso legnanese dal centro dell'area e piazza risponde da 3 per il 38-33 dopo meno di un minuto di gioco. Legnano segna ancora da sotto con i Deo a 14 punti, ma Grigento punisce ancora da 3 con Evangelisti. Palermo appoggia lo scadere dei 24, Bufford ancora da 3 punti, con le squadre che aumentano sensibilmente le percentuali al tiro, anche se il 2x3 permette alla Moncada di farsi sotto. Deo a infila la tripla, poi anche Raivio la mette da lontano e Legnano vola nuovamente al più 9. Grigento non si scompone e con De Laurentiis ritorna a meno 6. Palermo serve magnificamente Mosley, poi Raivio scappa in contropiede, così come Deo a, per Legnano che arriva sul più 12 del 54-42 costringendo Cianni al timeout. E con Geristi ne esce alla grande con il long two del meno 10, ma Raivio, 14 punti, 12 rimbalzi, 3 assist, dopo un primo tempo del tutto anonimo, infila la tripla del più 13. La difesa di Legnano ora è più precisa e con l'ennesima palla recuperata scappa con i Deo a, poi con Martini e di nuovo con i Deo a imbeccato per due volte da Raivio per il 63-44. Il parziale legnanese non lascia scampo ad Agrigento che si sblocca solo nell'ultima azione del quarto con Zugno, 12 punti, per il 63-46 del trentesimo. De Laurenti, su 11 punti, segna dai libri i primi punti del quarto per Agrigento, mentre Sacchettini lotta a rimbalzo e c'entra i primi di Legnano da vicino. Legnano gioca con sicurezza, ma Agrigento mantiene un atteggiamento positivo che non la toglie del tutto da una partita che sembra compromessa. Zugno segna la bomba, Frassinetti il libero e le due squadre entrano negli ultimi 5 minuti sul 68-58. La schiacciata di Benolter del meno 8 mette in allarme Ferrari che chiama subito timeout, dopo alcune azioni di poca precisione e concentrazione. All'uscita dalla sospensione, Palermo guadagna i segni liberi del più 10, ma Benolter, 18 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, va in fadeaway e piazza con l'arresto portano il punteggio sul 70-64. Bucci tiene aperto il parziale siciliano di 6-0 che, grazie a un suo contropiede, diventa di 8-0 per il 70-68 che riapre del tutto la partita. Legnano rientra da un minuto di sospensione con due errori, mentre Agrigento segna i liberi con Bucci del pareggio sul 70 pari a un minuto esatto dalla fine della gara. Palermo, 10 punti, 4 assist, mette due liberi pesantissimi, invece Zugno fa solo 1 su 2 e sul ribaltamento di campo il fallo su Mosley permette a lungo della Louisiana il 2 su 2 del 74-71. Mosley forza in difesa una stoppata e i liberi di Palermo a 15 secondi della fine sono il 76-71 che rassicura i Knights. Il finale è solo per la differenza canestri, con la partita che finisce sull'80-76. Una vittoria faticosa con alti e bassi dei Knights, bene all'inizio nel terzo quarto, meno bene nel secondo quarto e alla fine, quando Agrigento, sospinta da un ottimo collettivo, stava per beffare Legnano vicino alla linea del traguardo. La contemporanea sconfitta di Biella permette ai Knights la gancio in vetta che torna ad essere un affare a due. Stimana prossima molto impegnativa per i Biancorossi, per la trasferta infrasettimanale di Latina e poi per il turno casalingo di lunedì 12 dicembre alle 20 contro Agropoli. Per rimanere sempre aggiornati sulla nostra attività, cliccate il bottone iscriviti del canale e attivate le notifiche per essere avvisati in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.